In questo video ragazzi vi voglio parlare del GBS, ovvero streptococco del gruppo B. Tantissime persone mi chiedono, ma Bibi devo fare il tampone, non devo fare il tampone, che cosa devo fare? Allora, vorrei precisare una cosa ragazzi, come sapete io sono ostetica e vivo in Australia. Qui in Australia ormai non si fa più il tampone. Il motivo qual è? È che quando voi fate il tampone per il gruppo B streptococco, che è un batterio che vive nella vostra flora vaginale e intestinale in modo fisiologico durante la vostra vita. È un batterio transiente che fuori dalla gravidanza non dà problemi, ma che durante la gravidanza, anzi meglio, durante il parto, travaglio, potrebbe causare dei problemi. Quindi partiamo da questo primo punto. Il primo punto è, quando voi fate il tampone, il tampone vi dà un'idea di quel momento. Quindi se voi a 36 settimane fate il tampone, il tampone risulta positivo per lo streptococco di tipo B, GBS lo chiamiamo, ok? Che è più facile. Risulta positivo per il GBS, significa che tu quel giorno, in quel momento, quando hai fatto il tampone, avevi GBS. Ma non significa che ce l'hai durante il travaglio, e non significa che ce l'hai durante il parto, e non significa che tuo bambino nascerà con un'infezione. Significa solo che tu in quel momento lì avevi la carica alta, ok? O comunque limite, per far sì che in laboratorio venisse detect, ok? Venisse rilevato, va bene? Invece, facciamo l'esempio opposto. Risulti negativa quando hai fatto il tampone, ok? Tu sei negativa quel giorno, sei negativa in quel momento, ma non significa che lo sai durante il travaglio e durante il parto. Quindi è molto importante fare questa distinzione, e capire che fare il tampone in realtà non è una predizione per il futuro. Bisogna anche ricordarsi una cosa, che essere effettivamente positivi durante il travaglio, fino a che in genere le membrane non sono rotte, quindi le acque non sono rotte, il bambino di fatto è protetto. Quindi se avete un parto in cui le acque si rompono praticamente all'uscita, difficilmente il bambino contrarrà, no? Quella che poi è l'infezione da GBS, perché poi è quello, no? Quello di cui abbiamo paura, no? Che il bambino contragga l'infezione da GBS. Però quello che c'è da dire, e che ovviamente si dimenticano da dire, è che in realtà di tutti i bambini che effettivamente contraggono l'infezione da GBS, solo nel 2% può essere pericolosa, portando a meningiti, febbre e comunque anche a morte, ok? Però ripeto, solo nel 2% di tutti i bambini che effettivamente contraggono l'infezione, ok? Quindi alla domanda, devo fare il tampone durante la gravidanza per il GBS? La risposta è, dipende da te, nel senso che ricordati sempre che se hai poi deciso di fare questo tampone e questo tampone risulta positivo, tu sei anche disposta ad accettare quello che questo tampone comporta, ovvero che farai l'antibiotico in travaglio. Cioè appena tu sarai in travaglio, in genere si inizia con l'antibiotico o se rompi le acque, in genere si inizia con l'antibiotico, ok? Anche se di fatto non siamo sicuri se effettivamente tu hai questo gruppo B, stretto cocco. In tutto questo però voglio fare un disclaimer che non sto dicendo che questo microrganismo non può essere veramente pericoloso, ma quello che sto dicendo è che non è sempre pericoloso, non causa sempre infezione, che è un microrganismo che è transiente, che il fatto che voi siate positive o negative al momento del tampone non vi dà nessuna indicazione su la vostra positività o negatività all'aumento del travaglio e del parto. Detto questo, spero di essere stata chiara. Se avete delle domande in particolare su quello che è il GBS, quindi lo stretto cocco di gruppo B, sempre qua sotto. Ciao!